gestire le gare in maniera più compiuta se così sarà lo vedremo anche stasera lo vedremo nel resto della stagione non dimentichiamoci che siamo soltanto a dicembre che questo è il primo vero appuntamento importante della stagione che poi proseguirà come sempre con europee mondiali e di lì probabilmente che vedremo la migliore caloria nell'anno certo cominciasse bene a fare già stasera grazie all'esperienza accumulata in questi anni sarebbe molto bello grazie ad Andrea Bongiovanni della Gazzetta più tardi e adesso andiamo a vedere la prima coppia impegnata Jana Kouklova-Serghei Novitski e come sempre ottima la loro spin grazie a una buona flessibilità grazie a tutti parte la midline con l'incrocio dai due partner come sempre e il quiz è ben eseguito grazie a tutti buona la sequenza di pasti circolare splendido anche l'ultimo sollevamento hanno eseguito bene e una danza gitana russa Diana Kouklova-Serghei Novitski ricordiamo che l'original dura due minuti e trenta vedremo invece in occasione del libero un programma più denso più articolato sui quattro minuti la Kouklova è nata a Mosca così come Novitski 22 anni lei 26 lui una coppia ben assortita perché lei alta un metro e cinquantotto lui un metro e ottanta l'ultimo risultato importante è il quarto posto ai campionati europei l'ottavo in occasione dei campionati mondiali sono vice campioni nazionali davvero una buona prova la loro questa sera come sempre molto frizzanti molto energici sul ghiaccio forse un po' poco scorrevole mancava un pochino di velocità se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo però davvero un bel programma ha presentato bene tutte le difficoltà eseguite senza il minimo problema per cui direi sicuramente sarà un buon punteggio quello di Kouklova Novitski hanno cominciato a pattinare insieme nel 2001 tra l'altro Novitski è passato dall'artistico alla danza all'età di 13 anni perché riusciva soltanto a proporre un doppio e non un triplo Sì, molti dei pattinatori russi in realtà cominciano con l'artistico e poi si vedono che non hanno possibilità di avanzare con i salti, con gli elementi tecnici più difficili si tramutano poi in danzatori naturalmente sono fortissime tutte le scuole sia di danza che di artistico in Russia e quindi c'è per loro quasi sempre la possibilità di fare questo passaggio poi con il nuovo regolamento essendo obbligatorie le trottole i diesel e tutti questi elementi acrobatici ecco infatti qua vediamo proprio il particolare della trottola dei due pattini che girano sulla parte avanti della lama ma non sulla punta questo è il modo corretto proprio di girare di ruotare per la trottola e qui la buona flessibilità di lei per cui riesce ad aggrapparsi la gamba di lui a essere spaccata e continua a girare la trottola intanto scusa Franca ma hanno ritoccato seppure di poco il loro personal 58 e 30 che era stato stabilito recentemente proprio in occasione del trofeo Eric Bompard del 16 novembre quindi 58 e 30 rispetto al 58 e 15 sì, io ho detto che erano parte